...i suoi limiti e le sue virtù. L'hanno ripetuto in due, l'hanno ripetuto anche Diego Gossi. Quindi non credo che al Milan in questo momento abbiano perfettamente capito quali sono le virtù e i limiti della squadra. Secondo te uno dei problemi è che non si sono calati in questa nuova realtà di squadra tecnicamente inferiore che quindi deve giocare diciamo più simile all'Avellino, tanto per fare degli... Operai, quali sono le virtù e i limiti della squadra. Secondo te uno dei problemi è che non si sono calati in questa nuova realtà di squadra tecnicamente inferiore che quindi deve giocare diciamo più simile all'Avellino, tanto per fare degli... Operai!